E' ritenuto gravemente indiziato con l'accusa di furto aggravato e rapina. E' stata questa la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Lamezia Terme nei confronti di un ventenne lamettino a cui è stata indetta un'ordinanza di esecuzione cautelare in carcere per aver derubato diverse persone all'interno dei locali da ballo in località Pesci e Anguille. Dall'indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme avvenuta a seguito di diverse denunce sono emersi diversi indizi di colpevolezza tramite le immagini dei sistemi di videosorveglianza delle discoteche. Secondo queste infatti il ragazzo era solito inscenare delle liti per sfruttare le fasi confusionali del momento e strappare di dosso alle vittime collane e altri oggetti di valore per poi fuggire. Il soggetto è stato posto in arresto e condotto presso il carcere di Catanzaro a disposizione delle autorità giudiziarie.